Gebra! Gebra! Scusami? Sono quali? Beh, sono sorella, direi. Non mi sembra un gemello, però, dai. No. Ok, enough with the misteries. What the hell is going on here? No, let's just get her out of here. E poi ci dirò che cosa è. Ho promesso. Fai due più due, sono uguali. O è sua madre, o è sua sorella. O è sua figlia. Che forza. Beh, non mi sembra così difficile. Hai capito? Grazie per la mano. Infatti, che cavaliere, eh. Cioè, ma riesci anche a correre. Ma quanto è forte. Ma riesci anche a sparare? No. Vai avanti tu, ciccio. No, ma riesci a correre. Ma quanto cavolo è forte. È un poro, c'è. Non puoi nemmeno raccogliere? No, l'inventario. Non posso aprirlo. Ah, no. Voglio questo. Vabbè. Guarda che se poi mi dà un morso sul collo... ...faccio caso alla caucon. Mi sembra abbassato che in buone condizioni. Tutte le erbe, no. Beh, speriamo. Ah, qua l'erba l'hai presa, vero? Sì, sì, l'ho presa, l'ho presa. Ok. Trova davanti io, spesso, dai. Sì, sì, certo. Vediamo se qui c'è qualcos'altro. Ok. Beh, finché è così è abbastanza tranquillo. La ultima parola è famosa. Perché l'hai detto? Eh, c'è... Eh. Checkpoint. La finestra! Dove? Ah. Leon, help! Ma non mi dì, eh. No. Attento. Ma... ...como di la cecchina o è bo... ...a niente. ...como di la cecchina o è resistente, eh? Che scherzo? La ropa è arrivata! Eh, vabbè, ma non mi fate se... ...le scenette mentre sto a fare i zombie, però. Colpa. Oh. Quante ce n'ho da ste bombe. ...e non c'è stop a nulla. Sì, come scendi? Alpino. Ecco. Ti fai ancora dei problemi. Beh, giusto, adesso è corri come... ...questa qui è degli stinti che... Oh, c'è. Dai! Non voglio stare vicino alla finestra. Eh, se... ...se da dietro arriva qualcuno, dimmelo. Magari che non me fugge. Sì, sì. Ovvio. Julian, Elena, dove sei? Non posso dire che ti fai via, però... ...Hannigan, no? Cosa sta succedendo a... ...Hannigan, veniva! Oh, dammit! Non mi dire! Come fa a ricevere? Ah, devo spingere? Ah, ma che potenza, c'è. Nonna, ancora, sorella? Ma, più o meno. Wow! Oh, c'è un'ebbia qua. Oh, aspetta, arrivo. Au! Che cosa è successo? Mi hanno tirato... ...una caccola. Aia! No, cioè, non posso accogliere il bambino. Scusa di scappolarmi addosso. Aspetta. Oh, caeva, non posso mai curarmi. Aspetta, 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 aspetta! Aspetta! Scusa, vieni un attimo. Ecco. Forza l'idea. Cioè, ti puntano, eh! Ovvio. Devo buttare qualcosa che mi serve un'erbetta. Cioè, ancora lo sputacaccole, no? No, no. Aspetta un secondo solo, eh. Devo combinar questa che mi servono le erbette. Ok. Ci sei? Sì. Ok. Ecco. Boss fight. Eh, sì, qua è palese, dai. Che faccio, tiro la sorella? Sì, infatti, io a prendere i piedi la lancio, tipo. Barra combat. Oh, io, 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 io. Ah. Eccola. Mars sul callo. Allora, ora c'è un mostro gigante che sto. No, ti pare, non l'ho portato proprio. Autocombustione. E poi che stai rilevata da... No. No, no. Ah, è venuta, tipo... Tipo Ada. E... E viene fuori Ada. Io, catterei. Non, non. Non, non. Io le avrei chiamato. Uh, ecco Ada. Ma bu... L'hai chiamata? Che puttana! No, ma nemmeno era un mostro. Ma brutta puttana! E lì, è cambiata. Ti sembra che hai visto un ghost. Cioè, mi stava sul cazzo prima, figurati adesso. No, no. Col cavolo. Eh. Perché dovrebbe essere di corrullare tutto? Perché dovrebbe essere di corrullare tutto? Oh, ancora è viva! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, non. Non ho capito, dai. Oh! Oh! Che botta Ecco una torta di vita Ah io avrò stacco Ada Se vai dietro Ada ti picchio No no non c'è fedele Che brutta stonanza Niente non te posso raggiungere Cioè non solo arriva l'ultimo momento Ma se ne va anche come ragazzo Eh Sto rubato ragazzi Io sono la merbetta rossa Yeah Però la merbetta verde è un cui unirla Sì Fantastico Si spari Ada Che fa Ada La sto lanciando Lancia Ada Si vedi sta fa Tarzan Fico Il lancio dell'Ada Mi ha lanciato Bene state già a sposarvi Adesso vengo io e vi rovino la festa Porco mondo Ecco Tento a fare gelota Si ovvio Cos'è sto posto? E cos'hai risolto? Non lo sto scendendo Sto scendendo Cioè ma cos'è il tesoro di templari tipo non so Dai Ada Dai Ada Muovete Oh ancora questa Eh ne sta bene Mi che è lanciato Senti ma quanta vita c'hai? Eh non lo so Poca Ma che è sicuro con un spray? No no ci penso io Aspetta se fai un secondo che cuo anche te Dai io sto al massimo Vabbè lo stesso Eh vabbè È sempre dai dire Ma gli devo sparare questa che dice? Boh Dai 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 Ancora che io vai lì c'è Non cosa insiste? No Ma io mi avrei Oh Zon 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 agli atti mi ero appena curata ha levato tutta energia davanti ho appena curato veramente ma sei morta? ma perchè voglio sempre? non sto giocando male, non è giusto eh so io che sto molto potente sembra vero adesso ti ammazzo bisogna sparare i tentacoli buono alla parte arancione dei tentacoli ahhh mappena io li eppon potremmi i porti non hai mai simpoli per lei è un'foglata non si può essere vero c'è un fogo che cosa? no 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 c'è un fogo ottimo uno solo ooh aspetta o vai 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 c'è vittima ah come sta a stare dietro? aspetta che arrivano gli sbombetti Ah! Oh, ma... ho preso le mira? Tutti vagliano lì. Eh. Mi cercano... Oh, morta. Ecco. Ma perché sempre io? Eh beh. Mi tocca stare con sta qua. Allora, non la uccidere che può servire, eh? Ma nemmeno ho troppe munizioni. È impossibile. Eina! Helena! Un po' di aiuto qui. Mentre le cose cambiano, Mentre le cose restano la stessa. Ho troppe munizioni. È vero? Io qui ho troppi zombie. Allora pareggiamo un pochino. No, vabbè, sto uccidendo più o meno tutti. Oh! Che fai? Cadi così. Auffa. No. Abbiamo fatto il tanto di equilibrio. Tutto dentro. Allora... Lo so anche sparare, ma... Se non posso prendere la mia... Togli da e ABA! Ah, che cazzo, vabbè. Arrivo, eh. Voi mi fai davanti, però. Ma voi dove state? Siamo qui nel mezzo dell'ascensore. Ah, io mi sto a fare il giro così, come uno scemo. Eh, sì. Non è che è giusto. Sì, vada che la sbora. Oh, e qui quanti serve? Qui c'è una leva che devo tirare, probabilmente servirà a voi. Probabilmente. Ci vediamo questo. Ok, vediamo a che serve stare là. Ah, ecco. Ok. Per far muovere voi. Attento che indietro ce ne... Eh, non posso muovermi, se riesci a sparargli tu, magari. Eh, no, non... Sono un foglio portato. Ah, ok, va da nulla. Anzi, vi è che c'è un muro davanti. Eccomi! Oi! Cos'è? Un ascensore su una paia. Belle montagne russe. Cos'è? 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 Sei manco sdraigliato o no? Ehi, potrebbe essere un'idea. Au! No. No, non mi dico... Au, io penso che eri tipo morta. Just stop it, Debra! This isn't you! You don't see. Eh, sì, infatti. Ma stamattina quando mi sono sdraigliato, non era un mostro. Non mi direi... Anche Ava è il mostro. Debra! Mi stanno mettendo... Via! Clash! Morta. No, eh? Sdraigliato! Ma sono già ricresciuti, sui pentacoli? Au! Suor! Perché stanno morendo? Non mi sento a morire! Mi stavo curando! Eh, ci ho provato. Ah, ragazzi, mi hai curato pure a me. Sdraigliato! Stai, stai, un attimo! Ok. Oddio, ora! Guarda, viene il tifetto! Oddio! 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 oh check point c'è la vita facile sta in funeria da è infatti scusate ci sta bene vai ci chiedo poi uno anche il secondo no cosa aia si si fatto pure con calma no non muore però e muore no la prende no 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 non mi ha avvenito la morte no no era vorato pove è pieno no 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 guarda che faccia guarda 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 mi aiutarà guarda guarda ma questo non è quello che restano qua E' il tizio di prima! Pimonta, adesso si chiamava Pimonta Si sembra che Simons è bene Perché lo fanno tutto questo? Longa storia Uccidere il presidente? Chissà perché lo vogliono fare Beh, perché voleva rendere pubblica le informazioni Per alcun sito, no? Ma... Tutti vogliono sempre uccidere il presidente Ancora c'ha questa pistola Sì, sono dieci anni che c'ha quella pistola Ma come fa a prenderla sotto? Sì Che cellulare hanno? Un iPhone nuovo Un iPhone 5 Uh, è finito il capito Vediamo risultati Siamo a tutti e due Ah, tutti e due Fantastico Anche io E quindi per adesso Chiudiamo il secondo capitolo E lo occupiamo Quindi ciao Alla prossima parte Ciao ciao Ciao